Ciao e benvenuto su elenco prodotti. Nel video di oggi daremo un'occhiata alla top 5 migliori smartwatch cinesi. Dopo approfondite ricerche e test, abbiamo realizzato questa lista in base al prezzo, alle prestazioni e alle diverse situazioni in cui verranno utilizzati. Se vuoi conoscere la disponibilità e il prezzo aggiornato di questi prodotti, clicca sui link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance. Cominciamo con la lista. Numero 5 della nostra lista c'è Amazfit Bipo Pro. La Amazfit Bipo Pro Smartwatch Fitness Watch Alexa Integrated è un'ottima scelta per uno smartwatch. Con un grande schermo a colori da 1,43 pollici, 60 modalità di allenamento, supporto professionale e impermeabilità 5 ATM con GPS. Ha tutto il necessario per ottenere il massimo dai tuoi allenamenti. Inoltre, ci sono 50 diversi design di quadrante tra cui scegliere, così puoi trovare il look perfetto per il tuo stile. La Amazfit Bipo Pro Smartwatch Fitness Watch Alexa è anche uno smartwatch molto conveniente. Con una durata della batteria di 7 giorni, si può essere certi di non dover consumare l'orologio ogni giorno. Se si effettuano regolarmente chiamate, la durata della batteria si estende fino a 20 giorni. Inoltre, il Bipo Pro è compatibile con Android e iOS, quindi è possibile utilizzare tutte le sue funzioni indipendentemente dallo smartphone in possesso. Quarto posto abbiamo Xiaomi Mi Watch Lite. Questo orologio è realizzato in ceramica e vetro zaffiro, che ha una durezza di 9,5 sulla scala MOS. È anche resistente ai graffi e può essere utilizzato sotto la pioggia o mentre ci si lava le mani. Il Mi Watch ha un design unibody in alluminio che è leggero ma resistente. L'orologio viene fornito con un cinturino in pelle, ma può anche essere scambiato con qualsiasi banda standard da 22 mm. Il Mi Watch Lite gira su Android Wear 2.0, che offre una durata della batteria migliorata e nuovi controlli gestuali, come scorrere il polso per scorrere le notifiche. Il Mi Watch Lite è dotato di una memoria interna di 4 GB, sufficiente per circa 500 file musicali. Il Mi Watch Lite è alimentato da Android Wear 2.0, che offre una migliore durata della batteria e nuovi controlli gestuali, come lo scorrimento del polso per scorrere le notifiche. Numero 3. Abbiamo Amazfit GTS 2 Mini. La Amazfit GTS 2 Mini è uno smartwatch perfetto per gli stili di vita attivi. È dotato di GPS integrato, cardiofrequenzimetro e modalità sportive per aiutarti a monitorare le tue attività quotidiane e raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. Con una durata della batteria fino a 14 giorni, è possibile fare lunghe corse senza preoccuparsi di ricaricare l'orologio. Lo schermo Amoled è protetto da un vetro curvo 2,5 di che aggiunge un tocco di eleganza e raffinatezza a questo smartwatch sportivo. La filosofia di design alla base della Amazfit GTS 2 Mini era semplice. Creare un orologio alla moda che abbracciasse il terreno e fosse comodo da indossare ogni giorno. L'orologio è realizzato in alluminio leggero con finitura opaca. Il cinturino è stato progettato per essere morboso e fornire un comfort ottimale durante l'uso. La Amazfit GTS 2 Mini è uno smartwatch perfetto per una vita attiva e molto alla moda. Numero 2. Abbiamo Huawei Watch GT. Il Huawei Watch GT 2 smartwatch 46 mm è un dispositivo top di gamma dotato del chip Kirin A1 e sviluppato direttamente da Huawei. Con il suo display 3D con quadrante in vetro e la capacità di effettuare chiamate telefoniche via Bluetooth, il Watch GT 2 è perfetto per gli allenamenti e la vita quotidiana. Inoltre è dotato di 15 modalità di allenamento e di un personal trainer sempre a tua disposizione. Il sistema di doppia geolocalizzazione ti assicura di non perdere mai la traccia della tua posizione, mentre il Huawei Watch GT 2 è compatibile con Harmony OS 2 o successivi. Huawei Watch GT 2 smartwatch 46 mm è uno smartwatch di alta gamma che offre una serie di funzioni innovative. Il dispositivo è dotato del chip Kirin A1 sviluppato direttamente da Huawei e può effettuare telefonate tramite Bluetooth. Inoltre, il Watch GT 2 dispone di 15 diverse modalità di allenamento e di un personal trainer sempre disponibile. Per finire, il numero 1 della nostra lista è sconosciuto Honor. L'Honor smartwatch Magic è il primo smartwatch al mondo con un pulsossimetro integrato. Questa tecnologia avanzata ti permette di misurare i tuoi livelli di saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca in qualsiasi momento. Passa da una conversazione veloce con amici o colleghi, a rispondere a chiamate, testi e altro ancora senza perdere un colpo. L'Honor smartwatch Magic è dotato di connettività Bluetooth 4.1 le per un handoff senza soluzione di continuità tra lo smartphone e l'orologio, per una produzione senza limiti. Con lo smartwatch Magic di Honor è possibile seguire le attività sportive e monitorare tutte le attività in ogni momento. La modalità sportiva consente di ottenere il massimo dalle attività, mentre la modalità intelligente permette di gestire le attività quotidiane. Scegliete tra diversi temi per personalizzare il vostro stile e ricevete le notifiche di chiamate e messaggi con un semplice tocco. Lo smartwatch Magic di Honor è il compagno perfetto per il vostro stile di vita frenetico. Rimanete in contatto con le cose più importanti per voi senza perdere un colpo. Verrai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto premi il pulsante Mi piace e se non conosci il canale, iscriviti e premi l'icona della campana per ricevere gli aggiornamenti futuri.